Porti turistici, nuove frontiere a confronto. Quali prospettive di sviluppo abbiamo nell'area? Ci troviamo con l'Aiga, con l'Avvocato Vergani. Cosa ci potete dire al riguardo? Bene, le prospettive di sviluppo impassano, nel mio modo di vedere, attraverso giornate di studio come quella che è stata fatta oggi con l'Aiga e con il patricio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Quindi abbandonare la figura dell'Avvocato generalista, muoversi verso la specializzazione e allo stesso tempo, con una contraddizione che è solo apparente, conoscere profondamente il proprio territorio e sviluppare le prospettive di sviluppo economico che ci sono sulle eccellenze locali nell'ambito di un quadro coerente con gli strumenti internazionali. Grazie Avvocato. Grazie a voi e buona giornata.